Saggi, autori, ma anche dibattiti. All'Aquila per la prima edizione del Festival del Libro. Tra gli ospiti di questa edizione, l'onorevole Alberto Bagnai, che ha dialogato con Filippo Burla per parlare di tematiche di interesse centrale nel turbolento contesto attuale, con un incontro dal titolo Tornare Potenza, l'Italia e l'Europa alla sfida dell'economia. Qual è la situazione attuale dell'Italia, del nostro paese nei confronti dell'Europa? Allora, mi sembra che, sa c'era il libro di un pedagogista piuttosto famoso, che si intitolava I no che aiutano a crescere. Io credo che l'Europa, per essere aiutata a crescere, perché chi abbia bisogno di crescere, lo dicono e lo vedono un po' tutti, abbia ogni tanto bisogno di qualche no da parte dell'Italia. Quali sono i punti di forza della riforma fiscale proposta dal centro-destra? Il punto di forza è fondamentalmente la semplificazione. È una riforma che raccoglie, tra l'altro, molte delle proposte fatte dalla Lega nel corso degli anni su questo tema, che riprende potenze alcune misure che hanno avuto grande successo, come la cosiddetta mini-flat tax, che procede sulla strada dell'accorpamento delle aliquote per i redditi da lavoro dipendente, andando verso la flat tax, che prevede il superamento dell'IRAP, un'imposta iniqua perché costringe le aziende a pagare anche quando sono in perdita. Insomma, le cose da dire sono tante e sono anche, credo, largamente note agli ascoltatori. Nel mondo delle professioni, inteso come sistema nervoso del Paese, qual è il miglior potere di intervento per quanto riguarda i decreti attuativi? Ma dai decreti attuativi ci aspettiamo che vengano incontro, così come è richiesto dai principi di delega, a una serie di esigenze che sono state avanzate nel corso del tempo dal mondo delle professioni. Il suo punto di vista sul salario minimo qual è? Ma dal mio punto di vista il salario minimo è quello degli economisti keynesiani, cioè sostanzialmente il salario minimo in un contesto come quello attuale, ma in generale rischia di diventare un attrattore al ribasso dei livelli retributivi. Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, cosa si sente di dire? Mi sento di dire che la spettacolarizzazione, il racconto di quello che è stato fatto da questo governo, il racconto da parte di certi medi è totalmente falsato, perché non viene meno l'assistenza a chi si trova in condizioni di oggettive difficoltà per motivi anagrafici o perché magari in famiglia ha delle persone con bisogni speciali, per esempio come dei disabili. Quello che viene meno è la tutela degli occupabili, i quali vengono avviati realmente a un percorso di approfondimento delle loro competenze per poi trovare un collocamento più facile sul mercato del lavoro.